Siamo nella radura del bosco di Francesco ad Assisi dove il FAI sta organizzando un grande restauro della natura di questo luogo e qui realizziamo il terzo paradiso. Il termine paradiso viene dall'antico persiano e significa giardino protetto, protetto da un muro che lo divide dal deserto circostante. La terra oggi ha questo muro che si sta sgretolando, questo muro che è l'atmosfera, molto delicato e quindi noi dobbiamo prima di tutto proteggere questa atmosfera, cambiando il sistema di vita in senso tecnico, ma dobbiamo anche cambiare vita in senso ideale, pratico, economico, morale, estetico e spirituale. Il segno del terzo paradiso che noi qui tracciamo è il segno dell'infinito che tradizionalmente è composto di due cerchi, i due cerchi rappresentano uno la natura, l'altro l'artificio, insieme creano il terzo cerchio come un grande ventre che procrea l'umanità nuova. In questo cerchio centrale noi sviluppiamo appunto il terzo paradiso.